Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Durante i prelievi è stata riscontrata una concentrazione di cloro residuo pari a circa 0,10 mg al litro, valore che rassicura sulla totale assenza di carica batterica nell'acqua in distribuzione. Lo afferma a proposito della vicenda dei 180 bimbi finiti in ospedale con sintomi gastroenterici causati dai batteri Campylobacter, era l'azienda comprensoriale acquadottistica ACA, gestore idrico di Pescara e Provincia, che ha effettuato controlli sull'acqua in distribuzione nei centri cottura e nelle scuole interessate. Corsa contro il tempo per preparare gli emendamenti, ovvero sia le proposte di modifica al decreto dell'ex Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul sisma del Centro Italia, che prevede una proroga di sei mesi alla scadenza prevista per il recupero delle imposte dei contributi sospesi nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto. Un decreto arrivato proprio nelle ore di formazione del nuovo Governo e al quale ora i parlamentari abruzzesi dovranno agganciare un emendamento importante, appunto cioè una proposta di modifica, quello per risolvere l'altra grande questione della restituzione delle tasse sospese alle imprese per alcuni mesi all'indomani del sisma del 2009 e che l'Europa vuole vengano restituite perché ritenute aiuti di Stato. I temi del lavoro. La FEMCA CISL si afferma come prima sigla sindacale alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria nello stabilimento Bravo di San Salvo. La Federazione CISL ha vinto il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie con 123 voti, raggiungendo il 40,33% dei consensi. La Filctem ha invece ottenuto 86 voti, la Wiltec 84 e i Cobas 6. La FEMCA ha eletto quattro delegati su nove. Si tratta di Raimondo Antonio, in particolare che è stato il lavoratore che ha ottenuto più consensi. Alla Filctem sono andati tre delegati, due invece alla Wiltec. La riviera sud di Pescara apre la sua passeggiata al transito pedonale ed apre già ampliata rispetto ai tre metri del marciapiede iniziale. Grazie ai lavori di riqualificazione, oggi una passeggiata di 12,15 metri per ora in massetto in calcestruzzo, fra spazio pedonale, aiuola e pista ciclabile, oltre a uno spazio utile di sicurezza perché le portiere delle auto non rappresentino un rischio per ciclisti e viceversa. E' iniziato anche il riempimento di terra delle aiuole lato stabilimenti ed è iniziato anche il riempimento in massetto in calcestruzzo della pista ciclabile. Con tutta probabilità già venerdì potrebbe essere completato il lavoro. Da due giorni fa però la passeggiata è stata riaperta al transito di pedoni e sportivi e così resterà anche nelle ore notturne. Terminata la ciclabile si opererà sulla nuova carreggiata stradale, i cui lavori termineranno entro la prossima settimana. Il completamento della carreggiata stradale consentirà di ripristinare il doppio senso di marcia sul lungomare. Si chiude con dati ottimi il mese di maggio in termini di raccolta differenziata. Montesilvano Colle, dove la raccolta porta a porta è ormai in realtà da un anno, conferma il suo consolidato 77%, molto positive le percentuali nella zona PP1 e al confine sud con Pescara, dove abbiamo raggiunto il 66,94%. Dati questi che ci hanno permesso di ottenere un incremento molto significativo della percentuale di differenziata in tutto il territorio comunale, lo dichiara l'assessore all'igiene urbana del comune di Montesilvano Paolo Cilli. A maggio la percentuale di rifiuti differenziati su tutto il territorio comunale ha raggiunto il 32%. Due posti medici avanzati per circa 30 posti letto complessivi, 19 in autoambulanze attrezzate per la rianimazione, quattro biciclette con defibrillatore a bordo, due automediche, tre quad, una moto d'acqua, circa 20 squadre a piedi per un totale di circa 150 unità operative mobilitate tra volontari, soccorritori, autisti, infermieri, interpreti e personale addetto esclusivamente alle comunicazioni. Sono i numeri della macchina dei soccorsi predisposta dalla Misericordia di Pescara per l'Ironman edizione 2018 che domenica 10 giugno entrerà nel vivo con la maxi competizione che vedrà la presenza di circa 1500 attreti impegnati nelle fatiche del triathlon. A fornire i dettagli dell'operazione è stato il governatore della Misericordia di Pescara, l'avvocato Berardino Fiorilli. Entra oggi in vigore l'orario estivo dei mezzi di trasporto pubblico. Tra l'altro c'è anche l'annunciato sciopero del trasporto pubblico locale che però, stando a nostre informazioni, non dovrebbe riguardare perlomeno il pescarese, ma è sempre bene informarsi. Per farlo potete contattare a Pescara la GTM al numero 085 432 12 e a livello regionale il numero verde 800 762 622. Ripetiamo, GTM 085 432 12. A livello regionale il numero verde 800 762 622. Per quanto riguarda i treni potete consultare il sito www.trenitalia.com, ripetiamo www.trenitalia.com o chiamare per i treni appunto di Trenitalia l'89 20 21. Ripetiamo, 89 20 21. Per quelli invece regionali della Sangritana potete contattare il numero 0872 70 8393. Ripetiamo 0872 70 8393. Si chiama percorso azzurro e della prima campagna nazionale di prevenzione oncologica tutta al maschile. La sede della Lilt, la lega italiana lotta e tumori, apre i propri ambulatori a tutti quegli uomini che vorranno sottoporsi a una visita gratuita con gli urologi dell'associazione, prevista giovedì 14 giugno dalle 16 alle 19 in via Rubicone senza bisogno di alcuna prenotazione. Oggi è venerdì 8 giugno e la Chiesa celebra la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù e la giornata di santificazione sacerdotale. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa pioggia al mattino e nelle ore centrali. Cielo coperto nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nell'arresto del pomeriggio, coperto nelle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 21 a 24 gradi e 20 moderati e nelle zone interne. Cielo molto nuvoloso fino alle ore centrali, temporale nel pomeriggio e nelle prime ore della sera e cielo coperto in tarda serata con temperature da 19 a 25 gradi e 20 da deboli a moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie.